Sicuramente il periodo pandemico ha creato tutta una serie di disagi che riverberano sui nuclei familiari e sui ragazzi e anche sulle forme di regolazione della socialità dei ragazzi. Al contempo sono cambiate anche alcune delle modalità con cui tradizionalmente si esprimevano le dinamiche conflittuali o di devianza sociale. Secondo lei ci stiamo abituando alla violenza? Al contempo, una riflessione che faccio sempre su questo, è che noi siamo violenti. Siamo più violenti di quello che ci vogliamo rappresentare a noi stessi. Le generazioni precedenti hanno canalizzato l'aggressività in forme di conflittualità politica. Pensiamo appunto alle generazioni degli ultimi decenni, ma le generazioni a loro volta precedenti le hanno canalizzate nelle guerre. La seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale. In realtà se guardiamo la nostra storia, anche nella storia sociale negli ultimi decenni, tutte le generazioni hanno avuto periodi di intensa conflittualità e violenza. Noi siamo cresciuti durante la guerra fredda e in mezzo al terrorismo. Al contempo l'aggressività si è un po' frammentata. Non è più canalizzata nei grandi contenitori politici o identitari, ma si è frammentata in tanti microeventi che diventano appunto allarmanti perché appaiono più, privi di una chiave di lettura, di una cifra di lettura coerente, in cui non c'è un'identità sottostante, gruppale, ma ci sono appunto atti che sono legati a una, a volte anche a una devianza di microcriminalità. Grazie. 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 Grazie.